Gentili telespettatori buona giornata, sondaggio Sky TG24 Utrend dell'11 dicembre 2023 sulla fiducia nei leader e Giorgia Meloni supera Giuseppe Conte rispetto al 4 di dicembre Mattarella stabile al 63%, la Meloni guadagna un punto e sale al 37%, Conte scende di un punto al 36%, Tajani cresce di un punto al 25%, Schlein cresce addirittura di due punti al 25%, Salvini è stabile al 23%, Calenda cresce di due punti al 18%, anche Renzi, l'ultimo in classifica, cresce di un punto salendo al 14%. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a presto.